Il dibattito sul decreto legge 36 su reclutamento e formazione dei docenti sta entrando nel vivo. Nella giornata del 26 maggio sono scaduti al Senato i termini per la presentazione degli emendamenti al testo del provvedimento. I sindacati stanno mettendo a punto il programma per il 30 maggio, giorno in cui è previsto uno sciopero del comparto scuola, sciopero che ha un duplice obiettivo. Da un lato tentare di bloccare la conversione in legge del decreto o quantomeno di ottenere significative modifiche e dall'altro di avere ulteriori stanziamenti per il contratto scuola su cui è iniziato il confronto presso la sede dell'Aran. Pochi giorni fa il ministro Bianchi è stato audito al Senato proprio sui temi del decreto 36, sulla questione della formazione continua incentivata, il ministro ha fatto intendere che gli spazi per cambiare la norma sono davvero molto ridotti. Potrebbero però cambiare in fase di conversione in legge le modalità di copertura della spesa per l'incentivo da riconoscere ai docenti che si formano. Il decreto prevede infatti che i soldi si troveranno con il taglio di 9.600 cattedre di organico potenziato a partire dal 2026. Su questa ipotesi ovviamente le proteste non mancano e non solo da parte sindacale. Anche Italia Viva sostiene che bisogna trovare i soldi in altri capitoli e infatti il partito di Matteo Renzi ha già predisposto un emendamento in tal senso. Ma la partita più difficile riguarda il problema del reclutamento e del precariato. Su questo punto le critiche al modello previsto dal decreto arrivano non solo dalle organizzazioni sindacali ma anche dagli stessi partiti di governo. Nel corso dell'audizione del ministro il senatore della Lega Mario Pittoni ha nuovamente parlato delle sue proposte sul reclutamento arrivando a sostenere che l'esame a crocette che si sta usando nei concorsi non è altro che un sistema per eliminare di fatto i precari. Ma sentiamo che cosa ha risposto in proposito Patrizio Bianchi. Non c'è nessuno che ha un'ossessione di volere per forza far fuori i precari non da parte mia ma neanche da parte del ministero. Cioè non c'è questa ossessione però c'è un'ossessione di valutare. Abbiamo permesso a coloro che da tre mesi di fare subito il concorso. Perché questo? Perché noi abbiamo un vincolo europeo per assumere 70.000 insegnanti con la nuova procedura d'urgenza. Per segnalo però un dato che mi sembra importante. Noi abbiamo assunto l'anno scorso 57.000 insegnanti e concludendo le procedure di quest'anno assumeremo altri 61.000. Quindi abbiamo fatto 120.000 assunzioni tra l'anno scorso e quest'anno. E ne assumeremo altri 70.000 entro il 24. Il ministro comunque, come abbiamo detto, non ha escluso possibili modifiche al testo. Il Parlamento è sovrano, ha detto rivolgendosi ai senatori. Se volete cambiare il decreto ne avete la facoltà, sapendo però che poi ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità. Che è come dire fate ciò che ritenete più opportuno ma se perdiamo i soldi europei non si dia poi la colpa al governo. Per la verità la sensazione generale è che in questa fase il ministro non sia in grado di fronteggiare le pressioni che arrivano da un lato dal MEF, da sempre preoccupato della spesa pubblica e dall'altro dalla stessa presidenza del Consiglio che non intende perdere la possibilità di ottenere i finanziamenti già concordati con la Commissione europea. Bene, su questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati perché è il tema di questi giorni, il tema politico di questi giorni e quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadelascuola.it Ovviamente continuate anche a scriverci, a mandarci le vostre lettere, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.